Giornate turbolente e movimentate. Sono queste le ultime ore complicate appena trascorse nella città di Pesaro e Vallefoglia. A dello sconvolgente, infatti, quanto accaduto sabato in Viale Fiume ad una ventenne, che dopo aver confessato ai propri genitori di essere lesbica, se li ha ritrovati di fronte in un agguato appena uscita dal lavoro. La giovane, in realtà, si era data appuntamento con la fidanzata, che la stava aspettando in macchina, ma è proprio mentre ha aperto lo sportello che è stata aggredita alle spalle dal padre, afferrata prima per i capelli e schiaffeggiata poi per ben due volte. Oltre che fisicamente, la ventenne è stata aggredita verbalmente, perché ad urlarle contro di tutto ci ha pensato la madre, che come il padre non ha accettato l'omosessualità della figlia. Per fortuna della ragazza, ad assistere all'episodio è stato il portiere dell'hotel Due Pavoni, che è andato incontro alla giovane, accompagnandola all'interno dell'albergo per proteggerla. I genitori, in un primo momento, sono stati bloccati fuori, con la minaccia che se fossero entrati l'hotel non avrebbe esitato a contattare la polizia. Poi però, la ragazza ha provato ad avere un dialogo solamente con la madre, ma una volta che è entrata nella hall dell'albergo, ha inveito nuovamente contro la figlia. La donna è stata nuovamente allontanata, e alla fine, in aiuto della giovane pesarese, sono arrivati gli amici, che l'hanno scortata e accompagnata in un luogo distante dalla presenza dei genitori. Altro episodio di stalking è avvenuto nelle notti scorse a Montecchio, dove un 26enne, originario della Romania, è stato arrestato per violazione degli obblighi di dimora e rapine impropria del telefono ai danni della ex ragazza. L'uomo, che aveva già avuto due querele per stalking, si è recato nei pressi dell'abitazione con un taxi, il quale, attendendo in strada, ha assistito a sua insaputa alla vicenda tra i due. Il molestatore è dapprima entrato in casa della donna con un mazzo di chiavi che aveva ancora in possesso, e una volta dentro ha intimorito e strappato dalle mani della ex il cellulare dal quale stava chiamando i carabinieri. L'uomo è poi uscito dall'abitazione correndo e dirigendosi verso il taxi per poter fuggire, ma vedendo quanto accaduto, il taxista ha contattato immediatamente le forze dell'ordine, che in pochi minuti si sono recati sul posto arrestando il giovane. Vicenda complicata anche a Pesaro, dove ieri è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere un giovane pesarese per estorsione ai danni della madre. Il ventenne, finito nell'abisso della tossicodipendenza, avrebbe da tempo assunto dei comportamenti sempre più aggressivi nei confronti dei suoi familiari. Numerose, infatti, le estorsioni nei confronti di madre e zia, minacciate di danneggiamento auto e di impedimento nell'uscire dalla loro abitazione se non gli avessero dato i soldi richiesti. All'ennesimo episodio, però, hanno deciso di denunciarlo, e per il ventenne, che era già in carcere a Villa Fastigi per aver rapinato un anziano nel novembre scorso, è arrivata la seconda sentenza. Grazie. 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 Grazie.